A proposito di eleganza, vieni con me, andiamo. Buongiorno dalla redazione del Tg1, la politica in primo piano. Buongiorno dalla Tg1 in apertura, la politica. Io la vedo in televisione e io mi emoziono ancora un po'. È stata sempre una bambina volenterosa e anche molto tenace. Prendeva la penna o addirittura senza niente in mano e simulava l'intervista e rideva come una pazza. Pian piano ha salito tutti i gradini. Si è preparata tanto e voleva dimostrare che dietro questa bellezza c'era un qualcosa. Quando Barba era andata via dal nostro paese, da Pedaso, per noi è stata una gioia. E' stata comunque forte. E adesso ballando con le stelle. Un, due, tre, cinque, sei, sette. Samuel Peron. È molto, molto esigente, molto, molto tosto. No! Non alzare la voce, eh! No! Grintoso. Molle nel bordo. Grande energia, ma anche di grande eleganza. Beh, è una donna di un gran fascino. Ha degli occhi, non sono degli occhi che passano, hai capito? Questo modo di fare, che mi ricorda tanto la signora che entra in macchina e fa Ambrosio, vorrei qualcosa di dolce. Sì, ma poi lo farò come dico io, eh. Three, three, four and one. Mamma, che sexy, che sexy fai così! Mamma, che sexy, che sexy fai così!